Con Vittorio Bellone, sindaco di Favria, parliamo anche di quelli che sono i lavori pubblici e di quello che è stato fatto in questi anni a Favria. È rimasto poco perché siamo effettivamente a fine mandato e in questi anni ci siamo dedicati prevalentemente a tutto ciò che era sicurezza, soprattutto nell'indotto del plesso scolastico, dove sono stati spesi circa 600.000 euro. Ad oggi invece andiamo a riqualificare la zona della piazza, dove c'era una fontana oramai dismessa da anni, c'è gente che abita a Favria e mi dice che non ha mai visto la fontana in funzione, in effetti purtroppo è una cosa così. E ad oggi andiamo a riqualificare questa zona per dare anche un pochettino più di lustro al centro e anche per compensare i sacrifici fatti dai commercianti. Comunque non è una piazza che cambierà, non è una fontana che cambierà le sorti del nostro commercio, ma sicuramente aiuterà a rendere tutto più fruibile. Quindi ben felici di aver fatto questa scelta, considerato che comunque i soldi spesi per le infrastrutture, i soldi spesi per i lavori pubblici non possono necessariamente andare a compensare quelle che sono le spese correnti di bilancio, quindi aiuti alla popolazione o quant'altro. Quindi quelle devono essere destinate agli investimenti e questo è uno degli investimenti fatti, così come quelle delle riasfaltature in una gran parte di strade del nostro territorio che verranno, auspichiamo tutti, eseguiti nei prossimi mesi. Silvio Carruazzo, Assessore dei lavori pubblici, parliamo dei lavori che sono stati avviati in questi giorni riguardante la vecchia fontana che avrà un aspetto completamente nuovo. Buongiorno a tutti, allora il progetto di questa fontana è un progetto che nasce praticamente dall'inizio della nostra avventura qui in comune a Fabria perché in realtà è vent'anni che abbiamo una fontana che di fatto non funziona, è diventato di fatto un rovinatoio per cani e quindi purtroppo non abbiamo mai avuto il tempo perché ci siamo dedicati anche ad altri progetti forse un po' più importanti, adesso era ora o meglio dalla passata estate che finalmente mi sono potuto dedicare, ho pensato a come poteva avvenire una fontana nuova senza andare su con i costi e abbiamo stravolto esattamente tutto quello che c'è sul posto o meglio la nostra fontana vecchia in pietra, l'abbiamo rimossa e l'abbiamo messa dentro il parco Martinotti e diventerà una fioriera e questa nuova fontana è una fontana che funziona con un ricircolo dell'acqua, la vasca stessa sarà una vasca in corten che avrà dentro degli zampilli e delle luci che darà un po' di brio a questo paese che di fatto in quella piazza è un po' morto quel centro, quindi con la fontana pensiamo di dare un po' di piacere. Quello che io ho notato nei paesi, io giro molto per lavoro in tanti paesi, i paesi dove nella piazza c'è una fontana sicuramente è un po' più, il paese lo trovo un po' più allegro e quindi era una nostra idea fare questo sostanzialmente. Per quanto riguarda l'investimento del comune, quanto sarà speso per il lavoro in piazza? Allora, l'interezza del progetto è di circa 35 mila euro, calcolate che però i soli lavori fa 25 mila euro, perché gli scavi, le demolizioni, le ripristino, la vasca che è in corten perché volevamo fare una vasca di ferro ma l'abbiamo dovuta fare in corten perché altrimenti ha il problema dell'ossidazione e quindi il costo effettivo dell'opera sono 25 mila euro, poi c'è l'IVA, poi c'è la progettazione, poi c'è tutto quello che è. Di fatto quando uno vede l'importo totale sembra sempre che quel costo dei lavori valgono quei costi di all'impresa, in realtà il vero costo, come vi ho detto, è 25 mila euro, però il comune ne spende circa 35 mila. Infine parliamo di strade, di asfaltature e di lavori che riguardano questo ultimo periodo di mandato dell'amministrazione attuale. Allora, intanto tengo a precisare una cosa, quando noi siamo stati eletti dopo circa sei mesi abbiamo già avviato una piccola fase di bitumatura delle strade, quindi sicuramente adesso siamo in un periodo preelettorale e quindi qualcuno dirà asfaltate le strade solo perché ci sono le elezioni. In realtà no, noi dopo un anno dal nostro insediamento qui abbiamo già asfaltato, avevamo qualche soldo da parte e abbiamo fatto asfalti per 40 mila. Siamo quasi a fine mandato, ne sono usciti altri 150 e adesso abbiamo appaltato per 150 mila euro di ripristini di asfalti un po' per tutto il paese, che è la continuazione di... Allora, quattro anni fa io ho fatto proprio un giro per tutto il paese, mi ero fatto proprio una scaletta di strade, di interventi da fare e abbiamo dato priorità a quelle che ne avevano più necessità. Adesso continuiamo quella scaletta su quelle che comunque nel mente si sono deteriorate ancora e quindi continuiamo quel percorso. In questo percorso sono usciti fuori i 150 mila, come vi dicevo, li abbiamo investiti, abbiamo fatto la gara d'appalto e l'abbiamo appaltata. Ahimè, però, siamo capitati purtroppo in un momento che è, come sappiamo tutti, così drastico. Il bitume purtroppo ha in questo momento un prezzo talmente... il bitume, non solo il bitume, il bitume ha un prezzo elevatissimo, il gas che usano chi fa il bitume ha un prezzo elevatissimo, il gasolio ha un prezzo elevatissimo e anche il trasporto del gasolio. Ci sarebbe piaciuto poter iniziare nel giro di 15 giorni, perché di fatto il lavoro è già appaltato, il problema è capire questa situazione dove ci porterà. Forse per me, come privato cittadino, vi direi, tra 15 giorni iniziano i lavori. Siccome sono nel settore ho qualche dubbio, perché le imprese stanno tenendo chiuse, non fanno i trasporti, non scaldano il bitume, quindi non possiamo neanche venire a bitumare proprio perché purtroppo c'è questo problema. Non che non ci sia la nostra volontà, ma bisogna mettersi una mano sulla coscienza a tutti e non dire a un'impresa vieni qua a lavorare e regalami 20.000 euro di lavoro in questo momento, perché di questo si tratta sostanzialmente, invece di dargliene noi a loro, alla fine sono loro che li danno a noi, perché sarebbe una grossa perdita data questo momento epocale purtroppo.